Guten Tag ragazzi e benvenuti o bentornati! Sul canale quello di oggi è ufficialmente l'ultimo video di Mv3 Zombies, di MvZ, dato che con la stagione 6 il suo ciclo vitale è ormai giunto al termine, dopodiché passeremo a Black Ops 6 Zombies, ma per concludere questo viaggio oggi scopriamo tutti i nuovi easter egg secondari aggiunti di recente su MvZ. Ti ricordo al volo di iscriverti, se non sei già iscritto, ed iniziamo! Questo video è suddiviso in capitoli, che puoi vedere grazie al minutaggio. I primi easter egg secondari sono nuove rune nascoste in giro per la mappa, mentre quelli che vedremo dopo sono più complessi. Comunque le prime rune le troviamo esattamente in questo punto nella mappa, nella zona 2. Andiamo nella galleria e spariamo alle 3 rune situate in questi 3 punti. Come abbiamo visto in passato, in altri easter egg, queste rune andranno a formare un triangolo, infatti una volta colpita anche la terza, se ci posizioniamo precisamente in questa posizione, riusciremo a comporre il triangolo. In questo momento inizierà una sopravvivenza e affronteremo tanti zombie corazzati e tantissimi laceranti, le cui anime verranno assorbite dal globo di luce al centro. Terminata la sopravvivenza riceveremo dei punti, un attrezzo d'etere epico, o se siamo fortunati anche leggendario, e un cristallo raffinato, o di nuovo, se siamo fortunati, potrebbe essere anche un cristallo puro. Altro punto dove sono presenti delle nuove rune è questo, e siamo sempre nella zona 2. Mettiamoci al centro dei palazzi, vicino la fontana, e troveremo le 3 rune tutte intorno a noi, in questi 3 punti nello specifico. Colpite tutte e 3, usiamo l'inceneritore o prendiamo una fenditura nei paraggi, perché da qui, mentre siamo in volo, riusciremo a comporre il triangolo, e quindi far partire la sopravvivenza. Questa volta affronteremo tanti cani infernali e tanti discepoli, e di nuovo, come ricompensa, otterremo le stesse potenziali cose delle altre rune, quindi punti, un attrezzo epico o leggendario, e un cristallo raffinato o puro. Le altre, ed ultime, 3 rune sono in questo esatto punto della mappa, sempre nella zona 2. Queste sono le stesse che abbiamo visto durante l'ultimo easter egg dell'atto 4 missione 4, ma le ho volute includere perché molti non sanno che anche queste possono dare come ricompensa punti, un attrezzo epico o leggendario, e un cristallo raffinato o puro. Per ottenere le ricompense ci basta eliminare i mimic normalmente, quindi senza la maeteria e senza l'eco del diario nell'inventario. Ma passiamo agli easter egg secondari più interessanti del video, e questi si trovano tutti nell'ultimo e più recente portale della missione 4-8-4. Nella missione sono nascosti dei rilevatori R4D, in svariati punti della mappa, te ne faccio vedere alcuni. Questi rilevatori serviranno per farci vedere indicazioni, scritte, o comunque cose segrete che ad occhio nudo non sarebbero visibili. Comunque, ora che siamo in possesso di un rilevatore, dirigiamoci in questo esatto punto della mappa. Qui sarà presente un punto per saltare, perciò andiamoci sopra ed attiviamo subito il nostro rilevatore. Se facciamo un buon salto, rimarremo letteralmente sospesi a mezz'aria, perché in questa posizione ci sarà un percorso invisibile, che noi riusciremo a seguire e a capire puntando il nostro rilevatore. Ci basta seguire le frecce e continueremo a camminare sul vuoto senza precipitare. È molto particolare questo easter egg, ma devo dire davvero davvero carino. E onestamente mette anche molta ansia, soprattutto se soffri di vertigini. Comunque, continuiamo a seguire le frecce e arriveremo addirittura ad una scala invisibile, ed infine ad una scalinata invisibile, che ci condurrà alle ricompense, ovvero un Holger leggendario già pacapanciato al 3 e un paio di LT53 Casimir. Per il prossimo easter egg spostiamoci in quest'altro esatto punto della mappa. Entrando in questo edificio, proprio sul muro vicino all'ingresso, riusciremo a vedere una piccola mappa e dei numeri, sempre grazie al nostro rilevatore. Di fianco, invece, noteremo una stanza chiusa a chiave, la stanza scorte. Adesso apriamo la nostra minimappa, perché ciò che vediamo sul muro corrisponde agli edifici situati nei dintorni, e i numeri 1, 2 e 3, che cambiano di posizione di partita in partita, corrispondono all'ordine di edifici in cui andare. Perciò andiamo prima nel nostro edificio numero 1. Quello che dobbiamo cercare in ognuno dei tre edifici marcati è una X, visibile solo grazie al nostro rilevatore. Una volta trovata, interagiamoci per farla scomparire. Ok, ora facciamo la stessa cosa, ma andando nella casa con il numero 2. Quindi cerchiamo la X grazie al nostro rilevatore ed una volta trovata, interagiamoci. E ripetiamo poi lo step anche con il palazzo numero 3. Quindi cerchiamo la X, troviamola nuovamente ed interagiamoci. Nel momento in cui interagiremo con la terza ed ultima X, ci verrà data la chiave della stanza scorte, quindi raccogliamola ed andiamola ad inserire nella porta di fianco la mappa sul muro. Le ricompense per il completamento di questo easter egg sono una valigetta dell'inceneritore, un MCV leggendario pacca panciato al 3 e tre cristalli di Ethereum, di cui uno grezzo, uno raffinato ed uno puro. E passiamo all'ultimo easter egg di oggi, situato esattamente in questo punto della mappa. Partendo dal secondo piedistallo da rompere per la missione, spostiamoci su quest'altro isolotto. Qui noteremo una X disegnata su un rialzo, perciò saliamo sul rialzo. La visuale inizierà a pulsare e precisamente in quel punto riusciremo a vedere una statua che emana una luce pulsante. Adesso dobbiamo continuare a mantenere il contatto visivo con la statua, e se la statua dovesse uscire dalla nostra visuale anche solo per un istante, lo schermo si oscurerà e riceveremo un avvertimento sonoro di errore. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere la statua, mantenendo però costante il contatto visivo con lei. Ma attenzione, perché ogni volta che falliremo, dovremo tornare sul rialzo marcato dalla X e ricominciare il viaggio. Il percorso non è troppo difficile, ma neanche troppo facile, perciò non demoralizziamoci in caso ci dovessimo mettere più di qualche tentativo. Comunque, una volta raggiunta la statua, riceveremo come ricompensa un DM-56 leggendario, pacca panciato al 3, e un paio di scimmiette. E questi erano tutti i nuovi easter egg secondari DMVZ, nonché l'ultimissimo video DMVZ in attesa di Black Ops 6 Zombies. Comunque, spero che questo video ti sia piaciuto, ma che soprattutto ti sia stato utile, iscriviti al canale se non sei già iscritto, e noi ci rivediamo molto, molto presto, con un nuovo video. Auf Wiedersehen!